Ho preso una piccola piccola , perché vai a metterla con la porta d'entra' quindi non esista mai quello No, mui che sta a butto da te un tanto è corretto quando hai in bosco, quando hai la pazza ho preso quando hai la faccio la carta c'è il picco e la pesa ora facciamo un cammino con bucola acqua e poi col com'è la garnicio e li gancio tutto ahahahahahah Ah ahaha non manco quando si la taglia mi dice guarda della lingua di oro una stuzziceta' Jay break Manico paura Stiamo facendo un Jay break La modifica Si Se lo metto su Youtube Con spirit 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 Paura Cosa E voglia Mi sono dovuto fermare pure A lavorare Eh ma perché cosa Matteo è andato via prima Comunque domani non vai È finito adesso Eh beh appunto per quello Perché sennò dovevo andare domani Hai capito Allora per non andare domani ho finito oggi Un po' più tardi La faccia Alle E Come si Sì 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 Grazie.